12 cani malnutriti in ipotermia sono stati scoperti a anni scemi dagli agenti di polizia della questura di Caltanissetta durante i controlli effettuati in collaborazione con i veterinari dell'ASP. Gli animali erano costretti in piccole gabbie all'interno di un edificio abusivo, privo delle più elementari condizioni igieniche e quasi del tutto di illuminazione. Il proprietario dell'aria è stato denunciato per maltrattamento di animali, nonostante avesse inizialmente negato ogni coinvolgimento. Gli animali sono stati liberati e affidati alle cure di un centro specializzato convenzionato con il comune di Miscemi.